Secondo il nuovo studio pubblicato dalla Confederazione Europea di Sindacati il 30 luglio, nel 2022 quasi 40 milioni di persone nell'Unione Europea non sono potute andare in vacanza per i costi elevati, 2 milioni in più rispetto all'anno precedente. Lo studio mostra che l'aumento maggiore della cosiddetta povertà da vacanza si è verificato in Francia. La razza ovviamente è l'economia mondiale e il budget vacanza è comunque un fameux budget, bisogna comunque comprare il minimo per una persona 1.500-2.000 euro, quindi se siete a 3-4 è una chiffra molto veloce. Sono 13 i paesi dell'UE in cui la situazione è peggiore della media del 14,6% del blocco. Tra i problemi di non potersi permettere una vacanza, quello relativo alla salute mentale. Secondo la Commissione UE, circa la metà dei lavoratori europei ritiene che lo stress sia comune sul posto di lavoro. La comunicazione sulla salute mentale pubblicata dall'esecutivo sottolinea la necessità di lavorare sul diritto alla disconnessione come parte integrante della riduzione dello stress legato al lavoro. Secondo lo studio, i dati del 2023 potrebbero essere peggiori a causa dell'aumento del costo delle vacanze e dei salari non adeguati all'inflazione.